La biblioteca è un luogo dove è difficile tenere il distanziamento sociale, dove si fa una notevole attività fisica. Sono tutte condizioni che si associano a un'aumentata trasmissione. Voglio solo limonare! Limonare, limonare! Estate 2020. Mentre l'Italia provava a dimenticare il Covid, il bilorogo Andrea Crisanti profettizzava le sventure che avrebbero colpito proprio la Costa Smeralda. In 20 giorni di vacanza l'unica sera che abbiamo fatto con i miei amici è stata a 15 sera, a 3 agosto. Noi eravamo in 10, il gruppo di amici. Gli unici due non sono venuti e sono negativi. Sulle piste da ballo, aperte a inizio agosto e chiuse dopo poche settimane, si consuma il primo scontro epico per turisti contro chiusuristi. Il più acceso è quello fra Flavio Breatore, patron del billionaire, e il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnetta, che per primo ferma la musica a mezzanotte. Su piste con sindaco, emana un'ordinanza che mette in ginocchio l'economia della Costa Smeralda. Ho ricevuto da un amico un video, per un aperto pensavo fosse una parodia del Grande Crozza. Fra una resistenza danzereccia e i contagi che risalgono, anche il Cavaliere, nel buon retiro di Villa Certosa, rimane impigliato nella rete del Covid. Il mio amico Presidente, che ti voglio tanto bene. Anche stavolta la si è scampata pelle. Da allora i locali da ballo rimangono chiusi, e su quella pazza estate in pista vengono persino aperte alcune inchieste giudiziarie. Io ricordo un tweet di Daniela Santanchè protestava contro la dittatura sanitaria. Oggi Mario Draghi riapre l'Italia, ma resta prudente con le discoteche. Così, se a Barcellona si sperimentano test di massa in concerti ed eventi appollati, in Italia il settore ancora non ha una data certa per riaprire le danze. La proposta che abbiamo avanzato alla Regione Puglia, che prevede appunto un test, prova come quello che è stato già realizzato in altri paesi europei, e che ha avuto comunque un ottimo risultato.